Un servizio di vigilanza fino all'arrivo degli artificieri, quindi questo è il turno che è nostro, poi ci daranno il cambio i colleghi penso della Questura. Continua il presidio delle forze dell'ordine del Parco del Prato ad Arezzo in attesa degli artificieri, qui infatti un bambino ha ritrovato una bomba della Seconda Guerra Mondiale. È successo domenica pomeriggio, il piccolo di sette anni stava giocando con il metal detector nel parco cittadino quando lo strumento ha segnalato la presenza di un oggetto, mai però il bimbo avrebbe immaginato di aver scoperto una vera granata. L'ordine è stato trovato sotto le foglie e un leggero strato di terra. Ad allettare la polizia, la madre del piccolo. Trovedendo anche la profondità della buca, è proprio quasi in superficie, quindi mi posso già immaginare l'espressione del bambino quando ha trovato questa cosa che non conosceva sicuramente, è stato diciamo anche abbastanza pericoloso insomma, vista anche la profondità, però è andata bene. La zona affollata di gente in una domenica pomeriggio è stata immediatamente circoscritta. Da Firenze nelle prossime ore arriveranno gli artificieri per disinnescare l'ordineo e metterlo in sicurezza. Verranno e toglieranno come hanno fatto già altre volte l'ordineo dal luogo di ritrovamento. Ancora un ritrovamento nel territorio aretino di un ordineo bellico della seconda guerra mondiale, dopo quello di alcuni giorni fa lungo la linea ferroviaria lenta a Vitiano e quello di pochi mesi prima in una zona boschiva di Castiglion Fiorentino.